Ed eccoci finalmente alla nostra rubrica di cinema fatta in casa. Benvenuti a With You! Benvenuti a Ricinema se fa con lo sparo e il feed de ferro! Nel primo appuntamento abbiamo parlato delle fotocamere da scegliere per le riprese. Questa volta parleremo di audio. Se usate fotocamere digitali, l'audio viene registrato da un piccolo microfono interno e regolato automaticamente da un filtro autogain non disattivabile. Il risultato non è di grande qualità. Quindi per una qualità migliore vi consigliamo di dotarvi di un supporto esterno che registri audio non compresso. Ne esistono molti sul mercato. Noi abbiamo scelto uno Zoom H4n, un apparecchio semiprofessionale dal prezzo accessibile e con dei buoni microfoni incorporati. Alla fine vi troverete due file distinti, audio e video, da sincronizzare. Potete usare un chuck. Il fotogramma in cui le righe nere e bianche si chiudono corrisponde nell'audio al punto in cui si sente il secco. Oppure potete usare un semplice battito di mani. L'altra dritta per ottenere un audio cinematografico è la distanza del microfono dal soggetto parlante. Con il microfono della telecamera la cosa funziona se siete vicini al soggetto parlante, ma non se siete lontani. Così non è un audio cinematografico. Quindi è utile un microfono esterno piazzato il più possibile vicino al soggetto. Per farlo si usa un'asta telescopica. Il microfono appreso in cima, sostenuto da un supporto elastico che ne attutisce le vibrazioni e gli ulti. I bellissimi fonici del corso di cazzotti sono dei professionisti e ne usano dei professionali. Ma in situazioni più semplici noi spesso utilizziamo la lica asta. Fatta in casa con il bastone pedale cencio e con il supporto assemblato da un tubo di plastica elastico a fettuccino. Bene, per oggi è tutto, grazie per averci seguito e alla prossima! Ah, è un'ultima cosa!